Un tortino vegetariano, ricco di sapore e colore, broccolo e ricotta. Raccogli i seguenti ingredienti, broccoli, ricotta, pane grattugiato, formaggio grana e uova. Pulisci bene il broccolo e bolli in acqua salata per 15 minuti. Mescola la ricotta con pane grattugiato, grana e uova in una ciotola. Unisci il broccolo alla ricotta, modella il composto in una teglia. Cucina il tortino a 180 gradi per 30 minuti, servi caldo. Unisci il broccolo alla ricotta, modella il composto in una teglia.